Grazie Buongiorno Buongiorno Guarda la coppia La coppia è famosissima E qui intorno Ha chiuso il posto in parte E la tipa che può venire sempre da solo e vince sempre da solo la Coppa dell'età Americana Silvia Berdy O Berdy Questa è l'Italia in un'espeda Il po' di più Il po' di più Il po' di più Esa correnta La coppia è stata La coppia è stata La coppia è stata Un'espede Il suo è stato Un'espede Grazie a tutti.